Stai ascoltando un podcast Rizzoli Education Ascolto per capire, ascolto per imparare di Valeria Razzini Fibonacci Day Hai mai strappato i petali di una margherita? Se guardi da vicino una margherita scoprirai che il centro giallo non è liscio è costituito da insiemi di spirali che partono proprio dal centro Non sono solo margherite La natura è tutta una questione di matematica Guardando le foto di una pigna notereste la stessa cosa Allo stesso tipo di spirali Ora, chiudete gli occhi, immaginate di essere in montagna State facendo una passeggiata nel bosco e decidete di prendere in mano una pigna La guardate attentamente e notate quella che sembra un'illusione ottica A seconda di come la guardiamo ci sono spirali che vanno in una direzione Senso orario E spirali che vanno nella direzione opposta Senso anti-orario Se vi mettete di impegno e le contate Scoprirete che sono 8 in una direzione e 13 nell'altra Due numeri consecutivi della successione di Fibonacci Ma chi è questo Fibonacci e che cosa ha di speciale la successione di numeri che prende il suo nome? La sequenza prende il nome da Fibonacci Un matematico italiano noto anche come Leonardo da Pisa o Leonardo Pisano Era un uomo che viaggiava e commerciava molto Poiché la conoscenza della matematica era importante per i commercianti Il suo interesse fu coltivato in gioventù accompagnando il suo papà fuori dall'Italia per lavoro Dovete sapere che Leonardo individuò questa serie per la prima volta nel 1200 circa Per rispondere a una precisa domanda Quante coppie di conigli si ottengono in un anno da una sola coppia Supponendo che produca ogni mese tranne il primo una nuova coppia Che abbia cuccioli con gli stessi ritmi? In sostanza la coppia di partenza dà alla luce una nuova coppia di conigli all'inizio del secondo mese E tutte le generazioni future si comporteranno in maniera analoga Dando vita a una nuova coppia ogni mese Da questo principio Fibonacci ottenne la seguente sequenza 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ecc Uno degli aspetti più affascinanti della successione è infatti che Partendo dai primi due termini che sono ovviamente entrambi uguali a uno Ciascun termine dal terzo in poi è uguale alla somma dei due che lo precedono Un altro aspetto meraviglioso sta nel fatto che la successione Come dicevamo all'inizio Sia riconoscibile facilmente in natura In molti alberi Anche i petali di moltissimi fiori sono un numero di Fibonacci Quasi tutti i fiori infatti hanno 3 o 5 o 8 o 13 o 21 Eccetera petali Ad esempio i gigli ne hanno 3 I ranuncoli 5 Il delfinium spesso ne ha 8 La calendula 13 L'astro 21 Ma non dimentichiamo la spirale aurea Lo sapete che se si costruisce una serie di quadrati In cui il lato di ognuno di questi è dato dalla somma dei due precedenti E tracciamo al suo interno una spirale Uscirà una spirale speciale? Volete vederla? Semplice Come sempre vi invito a chiudere gli occhi Se preferite potete fare con matita e carta ciò che vi chiedo Senza doverlo immaginare Immaginate di disegnare un piccolo quadrato al centro di un foglio a quadretti Poi, subito dopo, un altro quadrato identico di fianco attaccato I due quadrati saranno uguali e avranno un lato in comune Ecco, ora osservate le basi di questi due quadrati E guardatele insieme come se fossero un unico lato Questo potrebbe essere il lato di un altro quadrato? Sì, sarà sotto i due precedenti E se lo disegniamo il suo lato è grande la somma dei precedenti Ora guardiamo i lati che stanno a sinistra di ciò che abbiamo disegnato nella nostra mente o sul foglio e guardiamoli insieme Potrebbero essere il lato di un nuovo grande quadrato? Disegnatelo Perfetto! Siete stati bravissimi! Avete appena disegnato il rettangolo aureo Lo sapete che dentro a questo rettangolo se si disegna una spirale uscirà proprio la spirale aurea? Proprio quella che ha tanto affascinato Fibonacci La spirale aurea è diventata un principio compositivo per qualsiasi forma d'arte e architettura Già nell'antica Grecia si faceva largo uso di rettangoli aurei Gli antichi greci la utilizzavano per progettare i loro templi Il partenone di Atene ad esempio presenta una facciata perfettamente iscrivibile nelle proporzioni di un rettangolo aureo e molte opere di Leonardo da Vinci ripropongono nella disposizione dei vari elementi dipinti le esatte proporzioni dettate dal numero aureo Anche molte parti del nostro corpo sono in proporzione aurea tra loro Meraviglioso, vero? È davvero strepitoso! Saremo per sempre grati a Fibonacci per averci fatto scoprire che come dice il matematico Bruno D'Amore la matematica è davvero stupore e poesia Seguici su rizzoglieducation.it per continuare ad ascoltare i nostri podcast Hai ascoltato un podcast? Rizzoglieducation Grazie a tutti!